Ultimo aggiornamento di oggi con Muoversi in Toscana, ben trovati da Mauro Ciutini-Code sulla strada di grande comunicazione allo svincolo La Strassigna in uscita provenendo da Firenze. C'è ancora lo scambio di carreggiata sul raccordo Siena-Firenze tra lo svincolo Firenze in Pruneta e San Casciano Nord alla direzione quella per Siena. Passiamo alle statali sulla E45, rallentamenti per lavori tra lo svincolo con la statale 75, Centrale Umbra e Sansepolcro Sud, lavori anche sul 223 di Paganico tra Campagnatico e Civitella Marittima. La tranvia di Firenze ricordo che il lunedì 1 maggio sarà in funzione tutto il giorno senza interruzioni, il servizio parte dalle 5 del mattino, termina a mezzanotte e mezzo. Uno sguardo al tempo previsto dall'Ama Toscana per domani domenica, cielo sereno o poco nuvoloso salvo transito di modeste velature. Muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, buona serata domani.